Un saluto da Altigi della Mobilità oggi dalle 14 alle 18, manifestazione con corteo in centro, circa 3.500 persone partiranno da Piazza della Repubblica e arriveranno in Piazza di Porta San Giovanni dopo aver sfilato lungo Via delle Terme di Diocleziano, Via Giovani Amendola, Via Cavour, Piazza dell'Esculino, Via Liberiana, Via Merulana, Viale Manzoni e Via Emanuele Filiberto. Sono previste deviazioni per 27 linee di trasporto pubblico e dalle 14 alle 20 altra manifestazione con corteo che partendo da Parco Schuster vi farà ritorno percorrendo Via e Piazza dell'Ostiense, Viale del Campobario, Via delle Conce, Via Ostiense e Parco Schuster. Possibili temporanee deviazioni o limitazioni per 6 linee di bus. E' tutto, appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.